Frentinos di Alex Stori e Bergo Gli sorgi a Frentino e la Zanzara a Milano Oggi, dopo mangiata, mostreva fumare una sigaretta in cima dell'arca della porta Io mi abito a via Ponziana numero 95 e a un certo punto, da là alla via, sono visti sorgi Coglieva che non c'era e univa dalla parte mia, forse perché non mi era visto Solito toglie la macchina fotografica, può farci una fotografia e portarla al comune Può chiederci dove non fare una dirattizzazione per quella prova Inoltre, si è trovata a unire una femmina e chi gli è scappato Verso le 16.30, stavo io alla posta, passando per gli vicoli su questi dili E sono visti che gli sorgi, che si stavano filando un buco E sembra che la femmina da prima, come ha detto, non è la prima volta che si vede sorgi perché lo vede Meno male, penso, fra me e me Che orgogna! Oggi è che ancora si vede negli sorgi i giraboli centro storico Ma che orgogna, orgogna! Questa sera stavo guardando poco della partita della televisione e pensato poco che ha detto chi gli stava trasmettere Oh! Stavano a giocare a Milano Alla 21.30 per sapere E il campo è rapido del zanzaro Ma avete capito bene Mentre il campo è rapido del zanzaro E io che guardo circa, con gli sorgi solo, che ho visto camminare in mezzo alla via a Frindina Ma forse se saranno civilizzati pure gli sorgi, no? E dopo un percentuale, guardando di modo da voi Milano è grossa, è quello del zanzaro Frindina e Ziga, è quello del zanzaro Che però sono più grossi del zanzaro Non è meglio così Ferentino, 15 giugno 2005